ma mettiamo che suo figlio ci mettiamo da io e su figlio che comunque ammazza ma io non c'ho ancora pensato massimiliano no 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 carità qualo massimiliano una volta che la mamma c'è si decide che la sua figlia c'è capo c'è io avevo pensato ugo come tuo padre eh sì ma no per mio padre cioè a me non mi importa proprio questa cosa no è proprio perché a questo io aione viene più educato ma perché massimiliano massimiliano viene scostumato cioè lo so è proprio un uomo che è scostumato perché massimiliano i senti sempre per se massimiliano sarà vicino a mamma su a dio e si muove perché a qualche parte a mamma prima che lo chiamano massimiliano ora io non c'è stato so che sta facendo non mi dicono perché è troppo lungo vici ugo tu chiamo quello come sta vicino a mamma questo sta per muovere ugo ora io non avevo nemmeno tempo capito può fare un passo però ugo ha dato una po' forza ok lo sento no ma al massimo proprio ecco volendo ho potuto mi chiamare Ciro è più lunga ma proprio non devo far venire troppo ripresa però Ciro ha tenuto tempo per prendere un po' che da un po'